perché prima tu stavi leggendo il cartello che io ho fatto inquadrare dove c'è scritto che spesso ciò che viene denunciato da parte delle madri per i padri, per allontanarli subito e poter avere una situazione di solitudine con i propri figli dicono che sono state violentate, che hanno violentato i figli e invece a seconda di queste statistiche, per parlare un po' che non si è avvocato perché a volte ci sono anche delle madri che in realtà violentano e quindi sarebbero allontanate i dati che mettono le procure dicono che sostanzialmente l'80% delle denunce fatte di violenza subite in fase separativa sono funzionali a far sì che ai padri vengono allontanati il dato 80 è pregnante ed è anche enorme per la sua dimensione ma nasconde un 20% di dato reale